Il processo intellettuale grazie al quale si arrivò a scoprire la possibilità della costruzione di una bomba fissione e per il processo politico, economico e industriale grazie al quale poi la bomba fu costruita, questo è un interesse che rientra nella mia psicologia perfettamente nella mia specialità disciplinare. Se c'è qualcosa che ha a che fare col pensiero è la fisica nucleare, se c'è qualcosa che ha a che fare con la politica è una bomba atomica, di conseguenza non c'è da meravigliarsi. Per di più questa vicenda, la scoperta della fissione e poi il passaggio dalla scoperta alla pratica, in questa vicenda sono comprese molte dimensioni. Una importantissima e fondamentale è il rapporto del sapere col potere, detto in un altro modo, il rapporto delle élite scientifiche con le élite politiche e militari. Un rapporto che a noi da molto tempo sembra segnato da uno strapotere delle élite politiche e militari sulle élite scientifiche. Perché? Perché sì, perché ci siamo abituati a questo strapotere, ma quello strapotere nasce in queste circostanze. È interessantissimo vedere che fino al 1939-40 sulle riviste scientifiche di fisica nucleare tutti pubblicano. Dal 1940 in poi non si pubblicano più. Perché? Perché il lavoro teorico degli scienziati è sequestrato dalla censura. L'articolo fondamentale di Ulham e Teller, nel quale viene descritta la possibilità teorico-tecnica della costruzione della bomba all'idrogeno, è un articolo del 1951, è ancora secretato oggi. Tutti sanno come si fa una bomba a H, però quell'articolo lì, dove per la prima volta si ipotizzano certe cose che adesso non vi sto a dire, è secretato, non si trova. Nel 1939-40 gli scienziati, come dirà poi Oppenheimer, conoscono il peccato. Fino a quel momento giocherellavano con gli atomi. Era mezzo secolo, erano 40 anni che giocherellavano con gli atomi. Poi, prima, la scuola italiana di Via Panisperna scopre che si possono creare nuovi elementi, gli elementi transuranici, arricchendo di protoni e di neutroni, gli atomi, gli elementi esistenti. Poi, nel 1938, un chimico tedesco, gli tedeschi facevano quasi tutto, soprattutto fino al 1933, praticamente era tutta roba. Un chimico tedesco, Hann, scopre che gli atomi non soltanto si arricchiscono, ma possono anche rompersi. E nel 1939, una donna, ebrea, tedesca, scappata in Svezia, a cui il maestro accademico Hann Manda, l'articolo in cui lui descrive questo curioso fenomeno, nel suo laboratorio in Svezia, rifà l'esperimento, effettivamente si accorge che si spacca l'atomo, non solo, ma che quella roba che esce, quella roba che esce, sono degli altri elementi. Allora, abbiamo capito. Abbiamo capito, è la fissione. E, tranne Einstein, che quando glielo vanno a spiegare dice, ah, ma vabbè, non ci avevo pensato, ma Einstein era fatto così, insomma, e capiscono subito che potrebbe essere un'enorme fonte di energia. L'arma, l'arma nucleare, nasce contro il nazismo, ma per paura degli scienziati nazisti, nazisti tedeschi, essenzialmente di Heisenberg, premio Nobel, un grandissimo scienziato, un scienziato filosofo, che ha una capacità di interpretazione del lavoro fisico in chiave teorica assolutamente straordinaria, è uno dei pochissimi non ebrei, che in Germania continua a studiare, a insegnare la fisica nucleare, nonostante la fisica nucleare sia definita fisica ebraica, e dunque messa al bando. Poi Hitler, ma come lui anche Churchill, come lui anche Stalin, sono uomini che non capiscono, trovano questa faccenda che si può fare una bomba atomica, una trovata così da pazzoidi, genioidi, ma insomma non utile ai fini bellici, per cui investono poco o nulla sopra, in realtà investono poco o nulla sulla produzione di un'arma nucleare, mentre invece chi capisce è Roosevelt, Roosevelt al quale Einstein scrive, Einstein se ne stava lì a Princeton dal 1933, poi lo vanno a trovare alcuni scienziati nucleari, ebrei, ungheresi, scappati, gli spiegano, guarda qui c'è questa cosa, questi tedeschi sono bravi, capaci che fanno la bomba. Allora Einstein prende carta e poi innanzi glielo scrivono, perché era anche pigro, glielo scrivono una lettera a Roosevelt. Roosevelt non risponde, gliene fanno un'altra, che viene fatta arrivare a Roosevelt attraverso canali più sicuri, dovute legge, capisce, capisce e fa partire non il progetto Manhattan, fa partire un altro progetto, siamo nel 1941, un altro progetto che parte lentamente, malamente così, poi dopo per Arbor fa partire sul sé, un'altra via tutti quelli che avevano fatto, lavorato male fino a quel momento, fa partire il progetto Manhattan, nel quale investe una quantità di risorse spaventose, tanto per dirvi una, tutto l'argento della riserva federale viene adoperato per fare i fili elettrici, delle bobine, delle apparecchiature con le quali si accendono gli isotopi dell'uranio, perché non c'era abbastanza rame, più si adoperano tutto, ma poi inventano il sistema di produzione del plutonio, che non era mai stato fatto fino a quel momento, una pila nucleare sperimentale in un sottoscala a Chicago, costruita da Fermi, e poi immediatamente nel posto più remoto degli Stati Uniti, ad Hanford, nello stato di Washington, una città della chimica messa in piedi dalla Dupont per produrre plutonio, e poi lo Sadamos, e poi il generale Groves, un uomo del genio militare, era bravo, era un organizzatore, e poi la scelta del fisico nucleare prestigioso che tenesse in pugno tutti questi scienziati svaporati, che andavano inquadrati, costretti al segreto, al silenzio, messi in un posto assurdo come lo Salamos, e allora tutti dicevano adopereremo Lorenz, cioè un premio Nobel californiano, il costruttore del primo sincrotrone americano, no, prendano Open Line, che non era, e non Ernst Lorenz, no, non era un premio Nobel, non lo sarà mai, era un fisico, naturalmente un genio della fisica, però un uomo difficile, un uomo incostante, un uomo tormentato, anche caratterialmente per nulla lineare, per cui la persona meno adatta, infatti il suo amico disse ma quello non sa gestire neanche un carretto per gli hot dog, e invece, e invece allo Salamos viene caricato di una responsabilità e sostanzialmente riesce a far andare d'accordo qualche migliaio di scienziati non facili da prendere e a districarsi in una serie incredibile di problemi, c'è una grande letteratura sulla costruzione della bomba tonica, ma il film ha di buono questo, intanto mi pare di capire che non sia facilissimo da decifrare per chi non abbia letto qualche cosa, e soprattutto il libro, la biografia, una delle molte biografie che esistono su Oppenheimer, quella da cui deriva, cioè quella di due autori, Kay Bird, che è un gioanotto, un giornalista, invece quello forte, è Martin Sherwin, che nel 2005 hanno scritto questa grossa biografia, premiata col premio Pulitzer, tradotta in italiano nel 2007, passata quasi inosservata e poi ovviamente furiosamente ristampata quando è arrivato il film. Chi non l'ha letta forse avrà fatto un po' di fatica a capire cosa diavolo succede in quel film, perché c'è un gioco di flashback tipico del regista, perché incastona pezzi della giovinezza di Oppenheimer nella narrazione della fase centrale della sua vita, cioè appunto il progetto Manhattan. Questi pezzi di giovinezza fanno vedere un solito genio che fa fatica a socializzare, ma poi anche portatore di un'intrinseca violenza che lo porta da una parte a una linte furiosa a un certo punto quando era studente a Cambridge che nel momento ammazzava il suo compagno di stanza e questa non la fa vedere su, mentre invece in un'altra circostanza nell'avvelenamento di una mela poi lasciata lì a disposizione del primo che si ammazzava una cosa, comportamenti, perché poi a Cambridge era molto infelice, non si trovava bene come invece si trovò bene poi quando andò a prendere un piaccio di Albrecht bisognava andare in Germania allora per avere il meglio della della formazione scientifica e filosofica qui